Una volta avevo la vita perfetta e poi mio marito ha avuto una relazione. Chi di voi è stato aggredito in pubblico dalla segretaria di suo marito? Giusto, siamo in Francia. In America questa frase è... Bad kiss. Dobbiamo andare a casa. Parigi è casa. No, Rose, non lo è. Ma è ora di tornare alla nostra vita. Andiamo sulle cut skill! Stai andando sulle cut skill per due mesi. Tu cosa fai per l'estate? Sudo e puzzo come un barbone. Mi deprimo, ho istinti omicidi finché non ritorna il friggio. Eccoci qua sulle cut skill. La prima volta che ho baciato un ragazzo è stata sulle cut skill. Lui era il mio papà. Sto intraprendendo una carriera come comica. Scusate, forse dovrei andare. Sono incinta! Nascerò anche la Columbia. Io rinuncerò a tutto. Allora che facciamo adesso? Ora io inizio a organizzare un tour. Credi davvero che diventerò famosa? Credo che sarai un'enorme spina nel mio fianco molto presto. Detta in su? Detta in su. Sono molto felice di essere tornata a New York, la mia casa, dove ho così tanti amici che mi odiano, così tanti parenti che sono delusi da me. Ecco perché New York è fantastica. Quelli a cui tieni possono disprezzarti, ma puoi consolarti con un ottimo bagel. Ho un appuntamento con un dottore. Ma dove sei stata finora? 113esima Riverside Drive. Tu vuoi sposare mia figlia? Il suo permesso, voglio farlo. Credi davvero di poter tornare a fare torte di gelatina? Non so, le mie torte di gelatina sono ottime. Oh mio Dio, Sai Boldo, intorno alla tua più grande fama. Come ti chiami? Midge Mason. Cal lupo per stasera. È la mia prima volta in assoluto in televisione. Salve e benvenuto al Teleton. No, Rabbino non è un buon momento, la Chaim. Sophie, se butti di nuovo giù Midge Mason, se la bandisci da un altro locale, do un pugno così forte sulle tette false che lo sentiranno anche quelle vere. Io voglio che tu mi faccia da manager. Chi parla? Sono Sai Boldo. Ti ho vista a quel Teleton. Ti piacerebbe aprire i miei spettacoli in tour? Sì. Io sarò tutta sola per il resto della mia vita. Questo ho deciso con una telefonata di 5 minuti. Io non voglio essere sola. No stasera.